Assonometria monometrica della sfera Riporta sul piano XY la proiezione del centro della sfera equidistante da X e da Y. Dal centro della sfera, innalza l'asse principale, riportando su di esso le distanze uguali fra loro, che si sono utilizzate per individuare i piani di taglio orizzontali della sfera. Ricorda di dimezzare le altezze. Punta il compasso in ciascuno dei punti individuati con apertura pari alla misura ottenuta grazie alle intersezioni dei piani con la sfera e traccia una circonferenza. L'insieme delle curve tracciate suggerirà l'andamento della superficie sferica.